Ciao amici senpai, oggi siamo nella scuola di Roblox e dobbiamo scappare perché appena iniziato già non abbiamo più voglia di stare a scuola Oggi siamo con il nostro amico Sans Ciao amici E sono vestito di arancione giusto per lui In arancione con un green... Guarda c'è un altro green screen, il green screen di Elgato Tu conosci il gato? Eh? Il gatto sì Vi lascio il link in descrizione, è grazie a questo che io riesco a fare cose tipo così Cosa stai facendo? Ma come così? Non ti penso È bellissimo, sono metà green screen, metà no Tu hai mai preso un gessetto? L'hai sminuzzato tantissime volte? Con la carta di credito l'hai messo tipo a forma di linea? No, no E poi con una cannuccia... Ah no Poi diventi come lui, vedi Guarda che occhi che ha È strano, poi questo non usa gessetti, usa i coltelli e le mele Con i coltelli! So che ai professori bisogna dare le mele, però questo qui ti ripaga coi coltelli Al posto di metterti la nota ti mettono la mele in testa e ti infilano il coltello in testa e cerca di prenderti al banco Siamo pronti? È divertente Guarda, infatti anche lui ce lo dice È il bullo questo qui Si dice, il maestro impazzito, scappiamo E allora noi scappiamo Possiamo infilarsene le armadiette? Aspetta, aspetta Queste le conosci, sono le matite più pericolose di Roblox Sono quelle con la gomma, hai capito? Quindi adesso devi saltare Metti la visuale in orizzontale così e... Salta Ce l'hai fatta? Bravissimo E allora salta ancora Bravissimo Ok Ma siamo sicuri che ci fanno male se siete calpesti Eh certo, te l'ho detto Mi caddico le bugie Queste sono le matite più pericolose di Roblox Quindi lasciate 5000 mi piace se volete un altro episodio con senso che non ci crede Che le matite sono pericolose Non devi testare, siamo a scuola Nella sala di scienze poi... Cos'è tutta quell'acqua? Prendi checkpoint di prendere questa faccina stupida con i denti storti Dovrebbero riparare i tubi Sembra proprio la mia scuola in cui andavo Era piena di perdite ovunque Sia delle ragazze che... Che dei bagni Anch'io ho perso la vita Hai fatto uff Aspetta, voglio sentire più uff Ma tu lo sai che quando alzi e abbassi il volume fa... Sì, sì, lo so E allora salti... E non lo so, mi ha confuso sto... Senso! Allora, ho già registrato un video così con Martina Martina mi ha fatto impazzire Io non sono bravo nei parkursi Devi saltare Nella vita è reale Bravo, quest'acqua è maledetta Quest'acqua è tutta la pipì degli studenti che si riversa dentro... Esatto Ma oggi siamo su Roblox Prendi il checkpoint Questo è tutto il pozzanghere di acqua Stai attento Sembrava decorazioni sul pavimento Certo, mettono i tappetini così Tipo se sembrano laser Forza, salta Salta e salta Ce la fai? Bravissimo Bravissimo Allora, abbiamo fatto un po' di educazione fisica Ma adesso ci aspetta È diventato tutto nero Ok, adesso... Ci aspetta l'omino nero? No No, 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 è diventato tutto nero L'omino nero non sono razzisti Guardi sul righello Ma tu di quanti centimetri ce l'hai? Il righello? No, il cervello Non lo so E il pennello? Quanto ce l'hai grande il pennello? Non ce l'ho il pennello No E Sensino come è nato? Aspetta Non ho anche quel pennello Ah, ok, 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 ok Qua ho capito Provo a cercare la via d'uscita in questa stanza Ma io sono già espertissimo Scusa, se io asco di qua sono già uscito No Quella è l'entrata Questa è l'entrata Devi trovare il cartello verde Il cartello verde Con scritto uscita d'emergenza Vai, trovalo Trovalo Dov'è? È lì Bravissimo Esatto, sei bravissimo Adesso andiamo in prima persona E cerchiamo un attimo di uscire da questo condotto di ventilazione Ma tu la ventilazione come la fai di solito? Da che buco la fai? No, no, quella è lì per ventilazione Che è successo? È non scegliere il righello sbagliato questo Ah, un altro video Sì, è un altro Facciamo un altro video Ciao ragazzi, benvenuti a non scegliere il righello sbagliato Usiamo Sens come test Ho scelti tutti giusti, sono bravo Ma che fortu... Ma guarda! Ma come fai? Eh, legge dei grandi numeri Se quello è quell'altro E quell'altro ancora E quell'altro ancora E quell'altro ancora Non esiste una legge del genere E poi dove sono i centimetri di sto righello? Oh mio Dio Dove sei entrato? Aspettami 2010 2010 Oh no Li senti i polsi freddi? Eh Sens Li senti i polsi freddi? Allora Io direi 2005 2010 Dolcina 2005 tipo dolcetta Andiamo da dolcetta Giusto per non essere troppo Siamo arrestati comunque Prima 2005 Nick Game È lui il creatore della mappa Ok, questo è non scegliere la porta sbagliata È bellissima sta mappa Vi lascio il link in descrizione È troppo bella Così potete giocare con me Dopo aggiungo Tre amici Dovete scrivere qui sotto Il vostro nome di Roblox Così che vi aggiungo Perché ne aggiungo tre ogni video Cos'è questo gioco? È un hobby Hobby No, non mi fido di andare in quella porta Vai tu È mezza aperta Sono entrato È tutto nero? È vivo? Ok, allora posso entrare No No, sono appena entrato Ok Qui dobbiamo saltare Salta Salta Non c'è un quadrato giusto Salta Salta Ho vinto Bravissimo E adesso? Qui cosa c'è? Ci sono delle porte qua Aspetta, qui è bloccato Non possiamo andare lì Ma c'è un cratere nella scuola Guarda Qua cosa c'è? Oh no Questa è la sala di scienze È così grande? Cos'è questa roba verde? È quella che usi tu nei video di Sbreezer È la schifezza delle tue fogne Però questo mi uccide Senza Ma perché sei andato lì? Voglio infilarti dentro a quella provetta lì No Ah, è vero, è vero Adesso sei Non hai preso il checkpoint Mi sa proprio di sì Ma sto rimando Adesso sono i righelli Alleluia Grazie Non testare più cose Non testare Oggi accettiamo Softwall Quindi accettiamo Poi accettiamo Simonator02 E poi accettiamo Harry Perry Ecco qua Tranquillo al checkpoint a sto giro Credo Ok, sì, ce l'hai Meno male Dai, forza Che devi venire qui sulle assi di legno Per testare qual è quella giusta Vieni Adesso è che non devo testare Allora, ma roba Cicco questo è giusto Ho un talento in alto Ah, sono tutte giuste Ok No Però questa è una È sbagliata, mi sa No, sono tutte giuste Ok Non toccare queste provette No, no, no Sono infette C'è dentro un virus degli SCP Ok Io vado sul tuo asse di legno Sulla tua asse di legno Così che almeno Ok È stato facile Ho sentito Che c'è Un muro bagnato qua Come un muro bagnato È sicuramente nel bagno delle femmine Il muro bagnato Esatto, andiamo No No Aspetta, devi provare Devi insistere Devi bussare Signorine C'è un topo in bagno No, non si sentono urla Quindi non c'è nessuno Bagno dei maschi È morto qualcuno Hai sentito Ho sentito anch'io E quindi Dov'è il muro bagnato Sono i fantasmi Dobbiamo entrare in uno di queste armadiette Sicuro Aspetta, qui c'è qualcosa strano Ho trovato il muro bagnato Ah, ecco il muro bagnato Mamma mia E adesso è tutto nero Che è successo? Siamo entrati nel bagno delle femmine Oh Il bagno delle femmine No, devi stare attento Ci sono le linee d'acqua Che quella non è acqua Ma sono È la pipì delle ragazze Che esce dal C'è un bambino Nel bagno delle femmine Aiuto Oh no Questo? Perdi qua No No, senza Dobbiamo entrare dentro il water Non vedevo l'ora C'è entrato? Sì Aspetta, ma l'hai preso il checkpoint? Sì No, aiuto Siamo nel bagno delle femmine Io volevo restare un attimo Non c'è nessuna femmina No, no, no No No, 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 no Ah, ma questo è cacca No Non dovevi dirlo Che schifo C'è un topo Eppure morto nella cacca Lo vedi? Fammi vedere Non così Prendi le malattie Dai, prendi il checkpoint Vieni qua Spassa sulla cacca Dai Vieni qui E adesso Come facciamo? Adesso si passa Per di Oh Oh Aspetta Aspetta Oh Oh Aspetta Oh Ah Al contrario Ok Ma che cosa vuol dire? Qui possiamo camminare sulla cacca invece Ma qui posso salvare il topino Sì No, non salvare il topino È proprio morto Non ci puoi far più niente È cacca congelata E adesso bisogna saltare qua Mi sa Ah Salta Bravissimo È saltata la cacca L'abilità unica E adesso Condotti di ventilazione ancora E adesso No Siamo nel bagno dei maschi Che schifo Questo era un sacco di cartigienica sporca Aspetta E se proviamo qui Magari qui dentro Nel water Provo a tirare l'acqua Questo si sta lavando i piedi nel lavandino Ma che schifo Prendi il checkpoint E adesso Dobbiamo andare ancora nei condotti di ventilazione Ma non far puzzare nei condotti di ventilazione Sennò muore tutta la scuola Ma è un labirinto SENS Sono qui Ti ho visto Ah Che spavento Cosa facciamo? Eh non lo so Tu segui me Ah andiamo Sinistra o destra Vuttate nei commenti Sinistra o destra? Non lo so Eh Avete votato sinistra Bravissimi Non c'è modo che io non possa sapere Però va bene Speriamo No Avete scelto male Siete dei maledetti Dovete giocare con me Dovete scrivere il vostro nome nei commenti Adesso sinistra E adesso destra Era giusta No Ma è un casino È un casino Qua questa è la strada giusta Sì 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 Questa sì siamo all'inizio No ok ci abbiamo fatta Adesso dobbiamo scegliere un colore Io scelgo l'azzurro Ah No Non ho preso il checkpoint Il rosso Non ho preso il checkpoint Il rosso ha funzionato Non ho preso il checkpoint Ci ho fatta Sì Aspetta Prima prendiamo il checkpoint Ok Va bene Saltiamo sui tavoli della menza È tutto allagato Che schifo C'è la pizza con l'ananas Perché questa è una scuola americana E la pizza con l'ananas fa schifo Ci abbiamo fatta Siamo scappati? Siamo fugati? No Corre le matite Non testarle Bravissimo Non le sto testando Non le sto testando Sono già gli effetti devastanti Che hanno queste matite Esatto Perché hanno la gomma E ti cancellano la vita Ti cancellano l'account di Roblox Sai che se tu ci vai tre volte sulla Ah ma alla fine l'hai preso il checkpoint Ma Ma io Sei morto sul checkpoint Qui non si può entrare E qui non si può entrare E allora entriamo di qui Oh È l'uscita È la scuola boss di Fortnite Ce l'abbiamo fatta Se anche voi volete scappare dalla scuola Che è il primo giorno di scuola Lasciate un bel mi piace Andate a trovare il canale di Sans Perché anche lui porterà Roblox Se questo video raggiunge i 10.000 mi piacciono È vero è vero è vero Noi ci salutiamo nel prossimo video Ciao